vabbè nell'attesa che chi mi devono portare la lavatrice e allora mi sono lavato perché doveva venire su mia madre e ordinare la lavatrice che 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 l'altra non funziona più e allora mi sono lavato le cose da solo oggi quante cose si impara nella vita 53 anni eccolo il capriolo capriolo non si vede buio cazzarola ma c'è il capriolo che sta lì sembra vicino scappa l'utero ormai è andato eh sì cosa ha fatto a vestire a roma amico vieni vieni cipolo fa il saluto alla sabrina è stato consigliato di andare per legna giustamente non sapevo bene cosa fare in questi giorni perché finché non arrivano i miei l'orto non c'è verso allora possiamo raccattarci un po di legna così sono mai tanta qua e faccio delle cassette e mi porto guarda quanta senza fatica proprio vabbè era solo per dirvi che è meglio far legna meglio non pensare alle sorti dell'umanità e arrivederci e giù cassette andiamo a prendere un'altra cassetta andiamo a prendere un'altra che ho fatto fino adesso non riesco a farlo non l'ha reso conto della giornata mi sa tanto perché ho un impegno qua facendo un po di legna sta facendo eh mi dovrebbe vedere con dei lacci dovrebbe metterla altra che tutte le cassette mi devo organizzare bene perché non sono un po un impiastro veramente pian piano imparo ma insomma due cassette di legna già un attimo non c'è ne è tanta bellina che è andata proprio giù con l'alluvione che ci si mette un attimo ho detto sinceramente chi se ne capisce capirà che ho preso proprio poche male adesso poi mi appunto dicevo col vicino Diego che bisogna che mi porti dalle corde che me le leggo quelle più lunghe che me le porto su così e poi le taglio però tanto per oggi c'è un inizio questo è un inizio poi pian piano potrei stare ancora un'ora mi dirai ma va bene così adesso vado a farmi la doccia che oggi mi sono sporcato che ho aiutato anche lui a pulire il cammino ma poi ha rotto il comignolo e deve ci siamo fermati lì e no inizia a prendermi inizia a prendermi bene avrei preferito se i miei fossero venuti su perché là ci sono tutti i vetri della serra che c'è da divertirsi lì c'è legno ovunque qui se mi metto ogni ora me ne raccolgo per due nottate però è un inizio e ripeto sempre meglio partire piano poco come con gli allenamenti ma partire e continuare poi perseverare anzi sinceramente mi sta venendo sempre più voglia e meno voglia di sentire tutti i discorsi della società di stare giù mi siete persi un creativo artista e chissà che non ha trovato un creativo dell'agricoltura boh ma deve essere entrato un vetrino perché qui c'è pieno di vetri aiaia è faticoso ma pian piano si parte anzi ma sono qua ma sono qua devo abituarmi a un po' cepli vedete il video di ciali c'è adesso poi mi organizzo anche con la telecamera a metà delle mie non ci avevo pensato oh il cucciolo sei da questa parte sono arrivato alla cantina no il cucciolo poi ti fanno diventare un po' bellissimo che ti tolgono le palline e mandano ad aprile se non vai dietro alle gattine ti perdiamo se non vai dietro alle gattine ti perdiamo sembra poca eh per effetti è poca e niente non sono ancora ben addestrato via che mi faccio delle con delle corde vedo che ci sono ridente le corde no che non ce n'è più bisogno al momento c'è la prossima settimana che è andato freddo che è andato addirittura un po' di nevissimo ma oplà quanti che mi ha regalato Diego non mi stavano che tradizio un manone che fa per due mie mani vada un po' qua così il lavoro per quattro legno per la prossima settimana che farà freddo un po' di legna c'era non arrivano sui miei qua che dovevamo prendere la lavatrice e poi parlavo con Diego diceva che c'era dei nuovi ragazzi e lo so adesso assumono chiaramente si sono decidi perché gli altri vissero a girare un po' i denti se ne è voluto a far girare i denti quando mi dicono che ti invidio un po' ti invidio io non vi invidio più sinceramente adesso magari subito non verranno i soldi ma in qualche modo poi verranno anche quelli ho giocato ho già partito troppo la testa veniva è partita ma non avete idea di quanto sia partita ho avuto bisogno di riprendermi questa notte ancora ancora stanotte guarda mi preso un calmante perché ecco la situazione della coronavirus giù in città giù in città giù nel mondo gli stati di manico che un po' vengono qua esser solo per chissà quanto se tornare giù o non tornare giù insomma vabbè adesso mi faccio una bella spremoto d'arancia mi mangio una mela e una banana e poi doccia perché oggi mi sento sporco se mi si chiede ma hai avuto soddisfazione oggi sì devo dire la verità che stare la nel bosco a contatto con la natura per quanto sia stato martoriato di quel punto e togliere i rami secchi mi ha dato una soddisfazione proprio micidiale ho fatto poco magari perché poi di mattina c'ho la mattina per esempio sono stato via cercare di questo cazzo di modulo per cercare di scaricarlo la stampante mi porto la stampante che pesa tra l'altro non c'ho l'inchiostro e allora poi boh andrò giù in comune a chiedere se mi danno un modulo e poi devo chiamare per l'inps subito l'ho trovato guardi richiami tra dieci minuti ma il titolo qui ho perso la mattinata oggi sono stati due dieci minuti un attimo a riposare dopo averci sclerato dopo contro l'umanità ma mi fanno incazzare guarda mi fanno incazzare perché non vedo veramente mi sembro paura che poi finita sta cosa tu ti ritorna come prima oppa lì devo trovare un bel secchio dove mettere tutto tutto l'umido tutto da per farci il compost perché non ho ancora il modo di avere una compostiera proprio fatta bene bene no con i legni e devo essere tutto dentro un barattolino ma devo trovare un bel barattolo grosso dove metterci un po' di terra a cenere e iniziare a fare il compost una spremuta una mela una banana tra poco poi doccia invece me mangio una giornata qui finita lì ma non ci avrò guadagnato ma vi giuro gente c'è un guadagno interiore dovrò iniziare a guadagnare adesso vediamo un po' se altro giorno parlavo con l'amico Luca un musicista di Genova un bassista di Genova che è venuto a vivere un po' qua vicino guarda se non ci fosse sta cosa qui ci potremmo incontrare lui mi ha detto ma incontriamoci guarda un momento un po' così meglio evitare di muoverci alla cazzo che la rischiamo anche lui ha giocato per il lavoro è venuto a vivere qua che non sia mai che che si riesce a formare un gruppo di quelli che mi piacerebbe fare non da barocca ma ci devo guadagnare eh devo mangiarci quindi anche musica da piano bar ma io perché no ve li ripeto mi sono stancato del casino dei chitarristi che suonano in maniera violenta e qua mi darà sicuramente un rilassamento una gioia interia una calma interiore che che basta con le vecchie tradizioni però vi rimando poi al video il mostro che ho fatto qua con il mio amico Alex che ha detto che vieni a trovarmi quando finisce tutto ciò va bene il gatto dei vicini il gatto cucciolo gioca col tappo eh non si vede per cucciolo che mi piomba qua vieni no ma gioca col tappo eccolo lì ok 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 ok